pensavate che mi fossi dimenticata di raccontarvi cosa mi è piaciuto nel mese di giugno assolutamente no questo è il video degli wow del mese di giugno rieccoci tornati a parlare di quello che mi è piaciuto nel mese di giugno e quindi 10 wow del mese di giugno ora mi sistemo 10 wow misti come sempre come sempre in collaborazione con vittoria vi lascio il link qua sotto al suo video e magari vi faccio comparire dei simpatici pop up con il link diretto cominciamo cominciamo un mese un po strano giugno perché con il viaggio che ha occupato tutta la seconda parte ovviamente c'è stato un po di confusione vediamoli insieme come sempre un po di beauty questo è un prodotto di cui avevo sentito molto parlare che ho avuto modo di acquistare negli stati uniti e che mi ha assolutamente conquistata sto parlando del balsamo labbra della eos o ios il mio è quello con la protezione solare 15 e profuma di limone è tondotto all'interno c'è il balsamo lo si spattapascia sulle labbra e vi dirò che io l'ho trovato ha un buonissimo profumo di limone ma non troppo forte sa di sorbetto al limone e mi idrata piuttosto bene le labbra mi piace tenerle in borsa e poi è bellissimo cioè tipo c'era questa boccia piena di questi pallotti quindi li avrei comprati tutti quindi wow poi altro prodotto che ho scoperto questo mese sempre in vista del viaggio è stata la BB cream di Dr. Kills actively correcting and beautifying BB cream con la vitamina C e la protezione 50+. questi sono 30 ml non mi ricordo esattamente il costo ma sotto i 30 euro se non sbaglio comunque vado a fare una ricerchina e ve lo faccio comparire e la mia è la colorazione Fair oggi non la indosso fatalità ma l'ho indossata praticamente da quando l'ho acquistata qualche giorno prima di partire per tutta la vacanza non ha particolare coprenza rimane una coprenza molto leggera non è esattamente una crema leggera invece nel senso che la sensazione è quella di mettere una protezione 50 quindi è abbastanza corposa però l'effetto è molto naturale la durata è ottima perché io mi struccavo la sera e nonostante il caldo e quindi il sudore avevo ancora la BB cream addosso e la protezione è ottima è ottima nel senso che io l'applicavo una volta al giorno la mattina quando mi truccavo prima di uscire poi facevo anche tutta la giornata non lo so ad esempio ai parchi divertimento tutta la giornata sotto il sole e non mi sono mai scottata il naso che non so a voi ma è la parte che io mi scotto sempre quando sto fuori tutto il giorno quindi protezione ottima coprenza molto leggera abbastanza pesante la sensazione sulla pelle però sicuramente continuerò a usarla tutta l'estate è stata una bellissima scoperta poi il mio wow di abbigliamento è a lavare perché l'ho usato tutto il viaggio quindi vi farò comparire una foto e si tratta di un paio di pantaloncini di shorts di pinki neri che in realtà sono molto larghi sulla gamba lunghi a metà coscia e quindi sembrano quasi una gonna però sono praticissimi non sono troppo corti io non amo molto gli shorts quelli corti corti sia perché non ho il fisico per indossarli ma anche perché non mi piacciono soprattutto in città o quando non si è al mare e questi invece sono della lunghezza giusta costano un'inezia perché mi sembra che costino 15 o 16 euro ci sono in moltissimi colori infatti medito con i saldi di andarmi a comprare ancora perché sono comodissimi freschi, leggeri, pratici si abbinano con tutto e passano proprio da battaglia anche in questo caso abbigliamento da turista o da visitatore del parco tema sempre wow di accessori in questo caso il set di orecchini che ho comprato a Malta a tema gelati estivi sono di sweet blanco sono piccolini ci sono i coni rosa e giallo poi c'è il leccalecca tondo e poi c'è il leccalecca fatta a policino me li avete visti nell'all di Malta me li avete visti nelle foto in vacanza nei video hall che vedrete li avevo sono carinissimi colorati, leggeri non li ho persi avevo pure di perderli li avevo portati per quello perché dico vabbè se li perdo li ho pagati 6 euro e invece hanno la farfallina che tiene moltissimo sono belli colorati molto leggeri pratici wow perfetti chiudiamo l'abbigliamento con gli accessori con la borsa del mese la borsa del mese è questa è una maxi bag in pelle bianca rifilata con i profili in pelle invece colore caramello di Trussardi è vintage nel senso che è di mia mamma è un appartamento documenti ma io la sto utilizzando anche come una maxi pochette praticamente infilando la mano qua e portandola così è bellissima la trovo molto comoda anche per girare in città è particolarmente capiente e mi piace un sacco è la mia wow borsa mentre il wow portafoglio visto che ci siamo è il wow portafoglio in abbinata e questo qua fatto a bustina carino però non vale perché aggiungerei un oggetto quindi non vi dico niente del portafoglio però la wow borsa e veniamo agli wow farlocchi allora l'oggetto del mese è sicuramente la mia palla con la neve di Alice nel Paese delle Meraviglie la vedrete nell'hall della Florida l'ho presa a Walt Disney World gira su se stessa perché la tazza è una tazza rotante ma che ve lo dico a fare dentro c'è il bianconiglio sopra lo stregatto Alice al cappellaio giro giro tondo giro giro tondo wow questo è bello quando l'ho vista che giravo ho detto no deve venire a casa con me poi vabbè il wow evento o viaggio è sicuramente le mie vacanze e quindi in particolare la Florida io amo gli Stati Uniti lo sapete ci sono stata spesso e li adoro e ogni volta che torno è sempre bellissimo quindi sicuramente il mio post wow di giugno sono gli Stati Uniti e in particolare la Florida ma ne parleremo abbondantemente per tutto il mese ho programmato una serie di video che vi faranno venire la nausea a forza di parlare di Florida ma vogliatemi bene lo stesso e gli ultimi tre wow sono gli wow del ciccione e sono gli wow del ciccione negli Stati Uniti ora gli Stati Uniti sono i re dei ciccioni lo sappiamo tutti e hanno cioè tipo gli ultimi tre wow sono tutti loro primo wow il mio cibo preferito in assoluto in assoluto il cheeseburger oh my god io amo il cheeseburger mi ciberei di cheeseburger ogni giorno l'ho fatto per gli ultimi 15 giorni e infatti ora sono a regime perché se no divento un cheeseburger amo il cheeseburger quello fatto all'americana con la carne bella alta col cheddar buono col pane tostato cheeseburger I love you bibita la bibita wow del mese di giugno è la lemonade vi lascio un link alla ricetta della lemonade americana qua sotto perché non è la limonata normale la lemonade americana è fatta con praticamente tanti limoni quanto zucchero ed è buonissima è super rinfrescante questa in particolare la bevevo a Barbados perché avevano le spine gratis erano minoli inclusive c'erano le spine di lemonade buonissima con i pezzi di limone dentro super buona lemonade e l'ultimo wow del mese di giugno è sicuramente il più ciccione gli M&M's ma non gli M&M's normali perché a me gli M&M's normali non piacciono tanto no signore questi sono i fantastici famosi super M&M's ripieni di burro di noccioline ciò sono più ciccioni del solito e all'interno c'è il burro di noccioline fino a bada mio dio mio dio quindi non rimangono dolci dolci perché il burro di noccioline è leggermente salato e quindi sono una storia meravigliosa un meravigliosissimo bene questo è tutto io vi do appuntamento al prossimo mese con gli wow del mese prossimo mi scuso per la faccia che sicuramente sarà stanca ma ho delle difficoltà la mattina il pomeriggio mi sveglio ma non c'è luce e devo girare la mattina e la mattina sono è notte non sono ancora preparata il jet lag mi colpisce la mattina in questo momento io vi mando un bacione vi do appuntamento al mese prossimo mi raccomando andate a vedere quali sono i 10 wow di vittoria corro anch'io e ci vediamo prestissimo alla prossima